ciao a tutti sono sana e questo è il mio canale oggi vi mostrano come preparare il caffè turco detto anche arabo tunisino e alla fine della video troverete l'ingrediente buona visione abbiamo bisogno di caffè macinato molto fino turco fatto in casa commentate se volete un altro video su come farlo e sappiate che molto facili abbiamo bisogno anche del zucchero una tazzina d'acqua versiamo l'acqua in questo pantolino tradizionale di rami ma potete semplicemente usare quello classico lo mettiamo a bollire dopo aggiungiamo lo zucchero il caffè a fuoco basso come vedete una volta che il caffè è risalito spegnere il fuoco e versare subito il caffè nel tazzina potete gustarlo come qualsiasi dolce potete gustarlo come qualsiasi dolce potete aspettare passate PC Grazie a tutti.